La maestra li fa ai bambini no? Oggi scopriremo che lavoro fanno i vostri genitori. Va bene tutti i bambini, il mio babbo fa il muratore. Aspetta un attimo, ora ve lo chiedo una volta per un. Dunque, Mariolino che lavoro fai il tuo babbo? Il mio babbo fa l'impiegato. Bravo, bravo e fai complimenti al tuo babbo che fa l'impiegato. Va bene, fa Mariolino. Giovannino che lavoro fai il tuo babbo? Il mio babbo fa il barista. Bravo, è bravo, è bravissimo, fa dei caffè buonissimi. Benissimo, perfetto. Stefanino che lavoro fai il tuo babbo? Il mio babbo fa l'imbianchino. Bravo, bravo e dipinge bene. Bravissimo, fa delle pareti bellissime. Ciccio che lavoro fai il tuo babbo? Il mio babbo fa lo spogliare in lista in un locale gay. Come? Le fanno spogliare in lista in un locale gay. Va bene. Bene, allora la lezione è finita, potete andare tutti a casa. Fuori che te, Ciccio, rimani un attimo perché ti voglio parlare un secondo. Va bene. Ciccio, ascolta, ma veramente il tuo babbo fa lo spogliare in lista in un locale gay. No. E che lavoro fai? Il mio babbo è onorevole alla camera dei deputati. E perché non tu l'ha detto? Mi vergognavo.